Parre e tre grossi massi finiscono sulla strada in località Cossaglio. Uno sfiora una baita e colpisce la legnaia. Negli anni scorsi a poca distanza un episodio simile. La ripartenza della scuola ad Albino non cambiano gli orari per accogliere in sicurezza tutti gli alunni sistemata all'ex scuola elementare di Desenzano. Nel frattempo a Clusone l'Istituto Vest ha già ripreso l'attività. Importante risultato per la radici Pietro Industries and Brands di Cazzano Sant'Andrea prodotti di pavimentazione tessile in grado di abbattere la carica virale del SARS-CoV-2. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Quattro ragazzi originari della bassa valle seriana, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati per lesione personale aggravata, rapina e omissione di soccorso dai carabinieri della stazione di Bergamo. Altri quattro ragazzi, anch'essi minorenni, sono stati denunciati per il solo reato di omissione di soccorso. I fatti risalgono al pomeriggio del 2 agosto quando un ragazzo di 21 anni di Torre Boldone, mentre giocava a pallone con alcuni coetanei all'interno del parco pubblico in via Leonardo da Vinci, aveva discusso con un gruppo di ragazzi che oltre a portargli via il pallone alla richiesta di restituirglielo. Lo avevano picchiato con calci e pugni e colpito all'attome con un'arma da taglio. Dopo la denuncia della vittima, che aveva riportato una ferita giudicata guaribile in 25 giorni, i militari della stazione di Bergamo principale, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, sono riusciti a identificare tutti i protagonisti della vicenda. E' seguita la denuncia in stato di libertà per lesione personale, rapina e omissione di soccorso nei confronti dei quattro ragazzi che avevano partecipato all'aggressione e al solo deferimento per omissione di soccorso nei confronti degli altri quattro che pur assistendo all'aggressione non erano intervenuti per bloccarla, ne avevano soccorso la vittima. Cambiamo argomento, tre grossi massi sono caduti nella serata di ieri a Parre, in località Cossaglio, interessando la strada che porta in Valdossana e raggiunge Premolo. Il punto da cui si sono staccati è poco distante dalla zona dove negli anni scorsi si era verificato un altro dissesto. Vediamo il servizio di Andrea Filisetti. Ecco, qui ieri sera si è verificato il distacco di alcuni grossi massi. Sì, ieri sera siamo stati subito allertati, io, il vice sindaco e l'assessore lavori pubblici siamo intervenuti in loco, la situazione è abbastanza critica, tre massi di un'importanza notevole, si sono fermati sulla strada. Un masso purtroppo rimbalzando è sceso a valle, sfiorando un'abitazione e rovinando su una legnaia. Sono in atto gli accertamenti per verificare il quantitativo esatto di materiale che si è distaccato. Questa mattina abbiamo avuto il sopraluogo con l'UTR di Regione Lombardia, conclameremo la somma urgenza per liberare appunto la strada da questi massi per permettere poi anche agli utenti delle abitazioni in loco di accedere con una certa sicurezza. Si verificherà poi se è necessario realizzare un progetto per la messa in sicurezza dell'intero versante. Parliamo di massi di notevoli dimensioni. Sì, sono massi che calcolandoli così e misurandoli a prima vista possono andare da 9 metri cubi, 6 e 5, un totale di materiale che però è in fase ancora di verifica perché altri massi sono rotolati a valle e stiamo appunto adesso verificando con un sopraluogo di cosa stiamo parlando. Siete preoccupati che con il mal tempo la situazione possa peggiorare? Assolutamente sì perché la strada presenta delle fessurazioni molto importanti, di conseguenza lo scorrere anche solo dell'acqua piovana potrebbe creare un ulteriore disagio e ulteriore crolli. Quindi le operazioni devono essere fatte urgentemente e ecco l'unica considerazione che nel dramma non è successo niente a persone ma eventualmente si è rovinata solo una parte di un'abitazione adibita legnaia. Di questi tempi di sessi ideologici sul nostro territorio sono sempre più frequenti, la nostra attenzione è massima però purtroppo contro questi eventi della natura tante volte ci si sente un attimino inermi e bisogna stare attenti sempre di più a queste problematiche soprattutto nei nostri territori di montagna. Questa è la strada che da Cossaglio porta alla Valdossana e si può poi proseguire fino a Premolo. Da qui non possono passare né mezzi né persone? Sì, questa strada tra l'altro era stata già oggetto recentemente di una messa in sicurezza perché c'erano stati già dei distaccamenti di massi molto più piccoli e già è stata bloccata per circa un anno e mezzo e sapevamo che poi alcuni pedoni transitavano. L'avviso che voglio dare a tutta la popolazione è quello di rispettare assolutamente l'ordinanza sindacale, qui non potranno più passare fin quando non è messo tutto in sicurezza mezzi e soprattutto anche persone che giustamente vogliono andare a fare la passeggiata ma è veramente rischioso. Nelle scorse settimane di domenica ci sono stati problemi sul territorio dell'Alta Valseriana per due incidenti stradali a poca distanza l'uno dall'altro. Secondo la sindaca di Gandellino, Flora Fiorina, quello che è successo ha messo in evidenza la necessità di rinforzi per le forze dell'ordine nella nostra zona. Sentiamo. Allora, in località Corna, che è uno dei punti più brutti della strada, punti sui quali era già intervenuta anche la comunità montana ma che hanno assolutamente bisogno di un intervento serio da parte della provincia, essendo una strada provinciale, questo incidente ha bloccato il traffico. Chiaramente si sono chiamati i carabinieri. In contemporanea, che i carabinieri stavano già operando sul territorio, si è verificato un altro problema un po' più a valle. Di conseguenza, essendo stata segnalata a me questa cosa, ho contattato i carabinieri non sapendo che la pattuglia era fuori e mi è stato detto che la pattuglia era già fuori, era già sul territorio, sul mio territorio, in un'altra zona, ma che non era possibile assolutamente mandare un'altra pattuglia per il semplice motivo che c'era un'unica pattuglia che andava da Fiorano praticamente fino a Balbondione e tutta la valle di Scalve. La cosa mi ha lasciato un po' perplessa perché mi sono chiesta, ma già da anni tutta la comunità dell'Alta Valle, i sindaci, la provincia avevano richiesto un aiuto in più e un supporto in più per quanto riguarda le forze dell'ordine. In un momento poi particolare per tutta la comunità montana, per il semplice motivo che stiamo investendo a livello della caserma dei carabinieri, una cifra molto considerevole per i nostri comuni e di conseguenza mi sembrava che un po' di attenzione sul nostro territorio, soprattutto in questo periodo dell'anno, dove abbiamo un'affluenza notevole fosse doveroso. Tant'è vero che credo che tutti i miei colleghi si stiano operando proprio in questo senso, proprio per potenziare le forze dell'ordine che già fanno tantissimo per il nostro territorio, ma che da soli chiaramente non possono dare chissà quanto e chissà cosa del loro tempo, visto che sono veramente molto pochi. Per cui io credo che sia giusto l'appello che tutti noi lanciamo, in questo momento ci sono io, ma credo di esprimere anche quello che è il giudizio un po' di tutti. Assolutamente il nostro territorio non può essere lasciato un po' in disparte, forse perché è un territorio che non ha grosse problematiche dal punto di vista della sicurezza e di tutte queste cose, perché c'è tantissima brava gente, però questo non è un motivo, perché noi veniamo dimenticati come per tante altre cose. Ecco, credo che questo fosse da parte mia, doveroso dirlo. Pochi giorni alla ripartenza della scuola, abbiamo cercato di capire com'è la situazione nel comune più grande del nostro territorio, quello di Albino. Come riparte la scuola ad Albino? La scuola ad Albino fortunatamente riparte in presenza. L'obiettivo era sicuramente quello di garantire le norme di sicurezza rispetto alle indicazioni anti-Covid e far partire le scuole in presenza. Questo è già un grande obiettivo centrato. Il percorso non è stato assolutamente semplice e non sarà sicuramente semplice nemmeno nei prossimi giorni, anche a scuole aperte, perché purtroppo c'è stato un susseguirsi anche a livello governativo di normative, di indicazioni, una contraddittoria dall'altra, che non ha permesso effettivamente di prepararsi a tempo debito, non solo, presumo, all'istituto comprensivo di Albino, ma anche ad altri istituti. Partendo poi anche dal presupposto che l'istituto comprensivo di Albino è un istituto comprensivo complesso. Sono circa 1450 alunni, sono due plessi di scuole materne, quattro plessi di scuole elementari e tre plessi di scuole medie. Capite bene che i numeri sono questi, le strutture sono queste e quindi le difficoltà sono molte. Fortunatamente da questo punto di vista noi siamo stati in grado di recuperare anche degli spazi alternativi per le classi di Albino, perché si partiva già da una situazione monca. Noi lo scorso anno, avendo centrato un bando regionale per dei lavori di manutenzione straordinaria e efficientamente energetico, con la costruzione del nuovo palazzetto per le scuole secondarie di Desenzano con Menduno, avevamo dovuto chiudere il plesso perché i lavori erano assolutamente incompattibili con l'attività didattica. Quindi queste nuove classi erano state dislocate o presso la primaria A, la primaria Solari e la secondaria Bulandi e la secondaria Solari. Quindi questo aveva comportato nei plessi di ricezione una questione di sovraffollamento e logicamente questa situazione non ha sicuramente giovato per le regole anti-Covid. Siamo stati in grado di recuperare l'ex scuola elementare di Desenzano con dei lavori, con delle variazioni di bilancio, dei lavori fatti che vengono conclusi in questi giorni. Abbiamo completamente rifatto tutta la centrale termica, la ricorritura del tetto, abbiamo fatto dei piccoli lavori interni, il trasloco, la pulizia eccetera, in modo tale che i ragazzi che frequentavano la secondaria di Desenzano con Menduno potranno utilizzare questa struttura. Anche perché dislocare classi in oratori piuttosto che in spazi alternativi avrebbe procurato non pochi problemi alla direzione didattica nella gestione del personale. L'orario rimane invariato, quindi rimane invariato, l'orario va tutti i giorni per quanto riguarda le scuole, la scuola primaria, tutti i giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 16, praticamente col tempo mensa e mercoledì fino alle 12.30. Per le medie non c'era nessunissimo tipo di problema. Siamo riusciti ad organizzare anche il servizio mensa all'interno delle strutture, con tutto rispettando quella che è la normativa Covid, abbiamo dovuto logicamente trasferire alcuni spazi mensa nelle palestre, proprio perché c'è una questione anche di difficoltà del personale scolastico a poter seguire questo momento. Affiancheremo anche noi con del personale, si sta parlando adesso magari di qualche assistente educatore in aiuto ad alcune classi che con questi spostamenti sono un po' disagiati per l'attività scolastica. Siamo riusciti comunque a far partire anche i servizi di trasporto scolastico e quindi noi dovremmo essere, come posso dire, abbastanza a misura. Abbiamo tre settimane di accoglienza per sistemare ancora quelli che sono i servizi scolastici, quindi mensa e trasporto, quelli che ci competono. E all'Istituto Vest di Clusone la scuola è già ripartita oggi. Vediamo. Al Vest avete anticipato l'inizio delle attività? Sì, abbiamo scelto di anticipare di due giorni l'apertura della scuola allo scopo di dedicare una particolare attenzione alla classe prima. Una classe prima di 28 ragazzi che, come tutti, da mesi ormai non frequentavano in presenza la scuola e ci sembrava opportuno dedicare un tempo adeguato per poter conoscere, per poterli incontrare e per poterli aiutare a vivere questo momento delicatissimo di ripresa dell'attività in presenza. Delicatissimo e attesissimo nello stesso tempo. Come avete organizzato l'Istituto di Spazi ma poi anche la didattica? Sono stati mesi di intenso lavoro per poter garantire un inizio in totale sicurezza. Quindi tutti gli adempimenti, le procedure, i protocolli sanitari che sono stati in questi mesi indicati sono diventati oggetto di un grande lavoro fino alla stesura di regolamenti molto precisi che possano darci la garanzia di avviare in serenità l'anno. Allo scopo, allo scopo certamente di poter iniziare. Ci sembra che anche la fatica, il sacrificio di dover dedicare tanta attenzione a questi aspetti valga la pena per poter ritornare a gustare il bello della vita scolastica in presenza. E avete percepito la voglia di tornare sui banchi? Certamente, quello che più mi ha commosso della giornata di oggi è che tra mascherine, prova della temperatura, igienizzazione delle mani, tutte le dovute cautele eppure ha dominato questa parola, la parola gratitudine. Oggi siamo stati veramente grati del dono di poter ricominciare e siamo certi che questo dono che viviamo insieme alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi ci dà la sicurezza di poter affrontare con serenità il futuro di quest'anno così pieno di incognite. E poi lunedì arriveranno tutti gli altri studenti? Esatto, aspettiamo anche qui pieni di desiderio i ragazzi di seconda e di terza. La scuola si ripopolerà con il suo centenario di studenti e anche così siamo certi che si possa intraprendere un cammino nuovamente pieno di gusto, di attrattivo e di fascino che è lo scopo per cui la scuola esiste. Sono 245 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia. Con oltre 17 mila tamponi processati, il rapporto con i nuovi casi è pari all'1,4%. Ieri era all'1,02%. I nuovi positivi in provincia di Bergamo sono 11, in provincia di Brescia 17, 116 i guariti ma nel frattempo aumentano purtroppo anche le persone in ospedale, 3 in più in terapia intensiva con il totale che sale a 30, 4 non in terapia intensiva e il totale in questo caso è di 256 persone. Un solo decesso nelle ultime 24 ore che porta il totale a 16.892. A causa dell'emergenza Covid quest'anno non si svolgerà la mostra zootecnica di Clusone tradizionalmente in programma a settembre. La decisione è stata presa considerando il DPCM del 7 settembre e valutata l'impossibilità di garantire le misure di sicurezza. Appuntamento dunque speriamo al 2021. Cambiamo argomento, importante risultato per la Radici Pietro Industries & Brands di Cazzano Sant'Andrea. Ce ne parla Vladimir Lazzarini. La Radici Pietro Industries & Brands, specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, ha ottenuto da un primario laboratorio un rapporto scientifico che attesta la capacità della società di produrre e offrire prodotti di pavimentazione tessile ottenuti da fibra naturale e sintetica, in grado di poter ridurre di quasi il 100% la carica virale del Covid-19. I prodotti che saranno realizzati nel sito produttivo di Cazzano Sant'Andrea, con questa innovazione di processo, consentiranno alla società di abbattere del 99,9% anche la presenza di eventuali altri batteri presenti nella pavimentazione tessile. L'amministratore delegato Ivan Palazzi ha dichiarato siamo orgogliosi di poter offrire al mercato una ulteriore soluzione che può migliorare la qualità della vita e coglie una concreta e attuale esigenza che preserva la salute e la sicurezza in tutti gli ambienti. Siamo ancora più orgogliosi di questo risultato in quanto nato in territori, quale la Valle Seriana e la provincia di Bergamo, fortemente colpiti dalla pandemia causata dal Covid e questo dimostra ancora una volta la capacità della società e del locale tessuto imprenditoriale di poter reagire con energia all'emergenza. Parliamo adesso di sindacato, cambio al vertice per la Femca CISL, categoria del tessile e della chimica dopo Raffaele Salvatoni e Luciano Carminati, questa volta però il segretario non viene dalla Valle Seriana. Nuovo segretario provinciale per la Femca CISL di Bergamo, categoria che con quasi 6.000 iscritti rappresenta i lavoratori di moda, tessile, chimica ed energia. Il Consiglio Generale ha eletto Cristian Verdi, 41 anni, originario di Capriate, residente a Villa Dalmè, in CISL dal 2009. Verdi succede a Luciano Carminati. Sentiamo gli obiettivi del neo segretario. La Femca di Cristian Verdi spero sia una Femca innovativa, che abbia voglia di sperimentare, che abbia voglia di trovare anche nuovi metodi di fare sindacato, che dia spazio ai giovani, che abbia voglia di crescere perché c'è ancora tanto spazio, dobbiamo portare sempre più persone vicino all'ambiente sindacale e stare insieme per un obiettivo comune. Femca ha chiuso il tesseramento con 5.987 associati, da segnalare un cambiamento storico per la provincia di Bergamo. Il comparto chimico ha superato quello tessile, 54% contro 42%, mentre l'energia rappresenta il 4%. Ma sentiamo quali saranno le sfide che il sindacato dovrà affrontare. Di sicuro abbiamo da riprendere tutta la contrattazione di secondo livello, bloccata purtroppo dal periodo del Covid, e poi capire appunto questa situazione drammatica che abbiamo appena passato, siamo ancora nel periodo Covid, se porterà degli strascichi e quindi vedere le aziende che ahimè si troveranno in difficoltà da qui a fine anno. Un'estate contrassegnata da un calo passeggeri per le motonavi che fanno servizio sul lago di Seo. La pandemia ha colpito anche in questo settore. Nel frattempo da lunedì cambiano gli orari. Nuovi orari per le motonavi della navigazione Lago di Seo, la società del trasporto di linea sul Sebino. Lunedì 14 settembre entra in vigore l'orario scolastico con collegamenti feriali tra Monte Isola, Tavernola, Predore, Sale Marasino, Sulzano e Iseo che servono la parte centro-sud del lago e con collegamenti tra Lovere e Pisogne a servizio degli istituti scolastici con sede nelle due località. Rispetto ai consueti orari feriali sono state incrementate le corse tra Monte Isola, Predore e Iseo con relativi aggiustamenti di orario e inoltre è stato ricalibrato l'orario pomeridiano dei collegamenti tra Lovere e Pisogne per consentire agli studenti di poter raggiungere i diversi istituti e di far rientro a casa con corse ottimizzate in funzione dei nuovi orari scolastici. L'orario feriale autunnale prevede inoltre corse aggiuntive il sabato con collegamenti tra tutte le località lacustri e corse serali tra Iseo e Monte Isola mentre di domenica verrà prorogato l'orario festivo estivo. Fino a domenica 11 ottobre, fa sapere la società, la flotta della navigazione Lago di Iseo sarà schierata per assicurare i collegamenti ordinari e per gli studenti nei giorni feriali, inoltre nei fine settimana garantirà il servizio per i turisti. Navigazione Lago di Iseo raccomanda ai viaggiatori specie nei giorni festivi onde evitare attese e assembramenti di pianificare la propria gita sul lago utilizzando il servizio di acquisto dei biglietti online attraverso l'apposita sezione attivata sul sito www.navigazionelagodiseo.it Il servizio di trasporto sulle motonavi continua nel pieno rispetto delle normative anti-covid, perciò a tutti si ricorda l'obbligo di indossare la mascherina a bordo. Intanto la società fa il punto sull'andamento dell'estate. Il calo di passeggeri registrato nel bimestre luglio-agosto resta importante e si attesta al 26,4%, comunque in ripresa rispetto al periodo marzo-giugno in cui si è registrato un calo medio pari al 68%, con un picco del 92,1% ad aprile. In particolare è venuto meno il flusso turistico straniero che, come accaduto in Italia, ha preferito mete domestiche. L'attività dell'amministrazione comunale di Sovere. Il canale sportivo 628, alle 20 Antenna 2 Sport, alle 21 la partita di calcio in replica Albino-Gandino-Olginatese. E chiudiamo con l'almanacco. Domani è venerdì 11 settembre. Il sole sorge alle 6.49, tramonta alle 19.44. La luna è all'ultimo quarto, sorge oggi alle 23.49, tramonta domani alle 15.59. La Chiesa ricorda i Santi Proto e Giacinto. È tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito. Ricordo dopo il Tg le previsioni del tempo. Buona serata. Grazie a tutti.